pare che debba fare tutto io da queste parti si vediamo cosa sai fare e guardate spesso dragon ball nelle case di riposo rata toscra rata toscra sei fottuto ho uno scoiattolo e sono pronto a usarlo non ho paura di usarlo no non può aver respinto questo ho un topo ho uno scoiattolo e non ho paura di usarlo hai capito? quando un uomo con uno scoiattolo incontra un uomo onnipotente l'uomo onnipotente è un uomo morto o un dio morto cazzo cazzo atreus carica il topo atreus atreus entrambi conosciamo un simpaticissimo topo presto atreus bravo figlioletto attreus stronzo ho il topo l'hai capita hai capito che ho il topo come te lo devo spiegare ah si rompendoti il culo e ti tocca crederci non conosci ratato scarpettente no no calma mi dispiace ero io quello col topo allora è questo tutto quello che desideravi credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio spero sia esattamente quello che voleva no non è ancora finita